Ciao a tutti, eccoci ad un altro concorso, questa volta l'ho fatto su YouTube, se non mi seguite su Facebook sappiate che li ho fatti su Facebook, niente, dovete indovinare la canzone che sto suonando il vincitore, se vorrà potrà dirmi una canzone sulla quale fare un video la canzone in questione è una canzone acustica, penso sia abbastanza fedele nonostante le mie capacità chitarristiche farò la canzone dal bridge e poi ritornerlo, non la canterò, penso sia non troppo difficile ma neanche troppo 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 mainstream, il gruppo è famoso qui c'è il titolo, vi ho dato un grosso aiuto, niente, fatemi sapere le vostre risposte, fatemi sapere quale canzone pensate che sia non più di due risposte al giorno eventualmente, se non lo indovinaste subito Ciao a tutti e alla prossima!